A Paternò sono già entrati nel vivo i solenni festeggiamenti in onore della patrona Santa Barbara, triduo solenne da domani a giorno 2 dicembre. A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso legata al coronavirus, anche quest'anno, così come deciso nei giorni scorsi dalla conferenza episcopale siciliana, è stata confermata la sospensione delle processioni. Ai nostri microfoni, padre Salvatore Magri, parroco della parrocchia Santa Barbara, ha riepilogato i vari appuntamenti previsti. La quindicina è già iniziata da giorno 18 e sta procedendo con i pellegrinaggi delle varie parrocchie, poi avremo il triduo e infine i giorni clou della festa. All'interno di questi appuntamenti liturgici abbiamo anche degli appuntamenti che ormai sono diventati tradizionali. Il premio Idria, che ogni anno diventa un premio alla dignità umana che proietta la festa di Santa Barbara a livello nazionale e internazionale, e poi il recital delle poesie e tante altre iniziative, tipo la Notte Bianca, che quest'anno non sarà solo in una serata, ma in due giorni durante l'ottavario, il 9 e il 10 di dicembre. Così come vogliamo riproporre, il giorno 3 e sera, un'iniziativa che già abbiamo proposto l'anno scorso. L'iniziativa si chiama Inondiamo di luce la città. Inviteremo tutti i devoti ad accendere un lumino alle nostre finestre, ai nostri balconi, come segno di speranza e come segno anche della nostra preghiera per affidare la nostra città a Santa Barbara, perché ci protegga da ogni flagello, in maniera particolare dalla pandemia che è in corso. Infatti nel programma dei festeggiamenti c'è un passaggio dove io dico per noi paternesi la festa di Santa Barbara offre l'occasione di conoscere e di approfondire un passato grande di umanità, di fede, un passato di popolo che ha molto da insegnare alle giovani generazioni. Ed è questo che ha dettato anche la scelta della copertina del programma. Quest'anno la copertina del programma porta l'immagine del miracolo della peste che si trova qui sul presbiterio della chiesa di Santa Barbara. È un auspicio perché Santa Barbara, come liberò, paternò dalla peste nel 1576, ci aiuta a liberarci anche da questo flagello. Da punto di vista religioso, naturalmente i momenti clou saranno giorno 3, ci sarà il Vespro capitolare alle ore 18.30 con la svelata di Santa Barbara. Poi giorno 4 tutto si svolgerà qui in chiesa con le celebrazioni eucaristiche negli orari previste dal programma. E ci sarà la Messa delle Undici preseduta dal Vicario Generale dell'Arcidiocesi. Alla fine della Messa delle Undici affacceremo Santa Barbara sul Sagrato con le dovute distanze e poi nel pomeriggio ci saranno le altre celebrazioni eucaristiche. Giorno 5 ci sarà al solito il Pontificale preseduto dall'Arcivesco Monsignor Cristina e nel pomeriggio le altre celebrazioni eucaristiche. A conclusione dell'ultima celebrazione, quella delle 19.30, riaffacceremo Santa Barbara per una benedizione alla città. Non si possono fare processioni perché i Vescovi di Sicilia proprio in questi giorni hanno confermato la sospensione delle processioni fino a quando durerà lo stato di emergenza. In chiesa ci muoveremo con le norme anti-covid previste per le chiese. Quindi posti limitati, distanziati, mascherina e all'ingresso della chiesa, come l'anno scorso, ci saranno delle guardie giurate che faranno in modo di contingentare gli ingressi in chiesa secondo la capienza della chiesa stessa.